Prima di collegarmi con Gene Gnocchi devo lanciare un appello perché c'è una campagna a favore degli animali e allora a questo appello della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente lanciamo la clip regia, eccolo qua, non abbandonare anche tu Qualcuno li ha già abbandonati, non abbandonarli anche tu per aiutarli basta poco, manda un sms solidale al numero 45523 o chiama da rete fissa, salvami subito una campagna della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente Bene